Visto il gemellaggio con la città di Venezia e la bella iniziativa che ora è in atto con i ragazzi dell'Istituto di Popparozi di Teramo, intitolerete una piazza proprio a Venezia? Sì, sulla continuazione del progetto Venezia, domani partono i 10 ragazzi che giustamente vanno a fare lo stage nella città di Venezia, noi sabato mattina inauguriamo a Senarica il lavoro dei 6.000 campanili, quasi un milione di euro per la ristrutturazione dell'intero borgo, la sistemazione della piazza centrale che vogliamo legare ancora alla storia di Venezia intitolando la piazza proprio alla città lagunale, un momento importante, ci sarà il sindaco, il presidente del consiglio, insomma tutte le autorità veneziane insieme all'autorità della regione Abruzzo, della provincia di Teramo e con la partecipazione del governo e sottosegretario migliore porterà il saluto di Matteo Renzi in possibilità di avvenire.